Buongiorno, ben ritrovati con il primo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale ci occupiamo del via libera dato dai magistrati al crescente e dell'aggiudicazione del bando per il completamento dei lavori di Piazza della Libertà che danno il definitivo via libera al completamento del nuovo affronte del mare di Salerno. Il primo servizio. Ci siamo, finalmente si può ben dire, perché dopo un lungo periodo di stasi, di stop forzato, il progetto di riqualificazione del waterfront di Salerno è finalmente in rampa di lancio, può decollare ed anche atterrare. La lunga e strenua battaglia degli pseudoambientalisti può definirsi chiusa, terminata. Di certo non mancheranno altri esposti pre-elettorali, ma è di tutta evidenza che il megaprogetto Crescent più Piazza della Libertà ora può finalmente essere portato a compimento. Tirano un sospiro di sollievo gli imprenditori, i lavoratori, come ha saggiamente sottolineato il presidente dei costruttori salernitani Vincenzo Russo, ma anche la collettività. Impensabile, infatti, prolungare ancora la lunga agonia di un pezzo così importante e strategico di Salerno come quello interessato dai lavori. Il progetto di restyling dell'ex area delle Chianchiarelle, potrà piacere o meno, e non è quello che oggi rileva, dovrà necessariamente andare a buon fine, essere ultimato, completato, così come promesso dall'ex sindaco Vincenzo De Luca in campagna elettorale. Anche perché il completamento di piazza, sottopiazza, parcheggi ed edificio garantirà ossigeno a tutti. In fondo, giusto ricordarlo, proprio su quel progetto Salerno si era espressa alle scorse amministrative. Crescent e Piazza della Libertà, con tutti gli annessi del caso, erano il primo punto del programma elettorale di Vincenzo De Luca ed il risultato di quelle amministrative è ancora ben impresso nella mente di tutti. Dunque, volontà popolare, volontà suprema. E se anche la magistratura, che comunque continua a lavorare, è giusto ricordare che in corso c'è ancora un processo, ha dato oggi il suo beneplacito alla ripresa dei lavori del Crescent, doveroso prenderne atto rispettare la decisione e voltare pagina, o per meglio dire, andare avanti, spediti. E c'è entusiasmo a Palazzo di Città Salerno per il Via Libera e i lavori che interessano il Waterfront di Salerno. Una battaglia lunga, difficile, ma che ora può considerarsi a giusta ragione vinta dai privati della Crescent, SRL e dallo stesso ente di Via Roma. Assessore Mimmo De Maio, ieri il dissequestro del Crescent, oggi l'apertura delle buste, insomma due percorsi che si riuniscono e che potrebbero arrivare a completamento. Sì, diciamo, ieri si è conclusa la fase per la presentazione delle istanze relative agli interventi per la messa in sicurezza della piazza. Abbiamo avuto una risposta da circa 22 aziende e già da oggi si è avviata la procedura per individuare poi il soggetto che sarà segnatario dell'intervento. Nel contempo anche il dispositivo di ieri relativo al dissequestro del Crescent consente di guardare con grande fiducia all'insieme complessivo dell'intervento di riqualificazione di tutta la zona di Santa Teresa. Per quel che riguarda il Crescent, ora l'amministrazione comunale dovrà rilasciare un nuovo permesso? Il permesso già era stato istruito nel momento in cui gli operatori presenteranno la ricevuta del versamento della prima rata e la relativa fiducia per quanto riguarda le altre successive rate relativa agli oni di urbanizzazione possiamo lasciare immediatamente il permesso a costruire e quindi immediatamente anche gli stessi operatori possono avviare i lavori per il completamento del Crescent. Ci potrebbero essere tempi davvero stretti a quanto pare? Sì, sia per quanto riguarda la procedura per i lavori di messa in sicurezza della piazza quando credo che sia una gara al massimo ribasso, quindi una procedura molto più veloce e quindi io auspico che in tempi assolutamente condigentati nel rispetto di quelle che sono poi chiaramente le procedure, credo 35 giorni per le eventuali richieste di documentazioni eccetera, credo che nel giro di pochi giorni, nel senso 30 giorni, un massimo 45 giorni di poter avviare anche, individuare il soggetto per la realizzazione della messa in sicurezza della piazza. Diversamente per quanto riguarda il Crescent, nel momento in cui, come dicevo prima, sono l'anno rassegnati le ricevute dei versamenti dei relativi oneri, il rilascio è immediato e così possono essere immediatamente anche avviati i lavori di completamento del Crescent. I lavori potrebbero camminare di pari passo sia per il Crescent che per il Piazza della Libertà. Dopo l'apertura delle buste di quest'oggi, qual è l'iter? Che cosa accade? Sì, che possano essere di pari passo in dubbio, anzi credo che sia anche favorevole perché credo che ci siano anche dei punti di contatto tra gli interventi sulla piazza e gli interventi su Crescent e quindi credo che questa sia anche una condizione assolutamente favorevole. I tempi, credo, per quanto riguarda il Crescent, così come ho potuto verificare anche dalla dichiarazione degli stessi operatori, un anno potrebbe essere più che sufficiente per completare l'intervento, orientativamente allo stesso periodo, un mese più, un mese in meno per quanto riguarda anche il lavoro di completamento della piazza stessa. E da proposito di fronte del mare, l'onorevole Tino Iannuzzi ha presentato un'interrogazione al Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio per sollecitare l'indispensabile coinvolgimento delle regioni nell'iterra di formazione ed approvazione della riforma dei porti, che come è noto dovrebbe portare all'accorpamento delle autorità portuali di Napoli e Salerno. La partecipazione attiva e preventiva delle regioni, secondo Iannuzzi, è ancor più necessaria alla luce della recente sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha affermato il principio vincolante, secondo cui il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica deve essere adottato in sede di conferenza Stato-Regioni. In questa prospettiva le regioni debbono essere coinvolte in misura incisiva già nelle fasi precedenti del percorso formativo del decreto legislativo e fin dal lavoro istruttorio e dalla disamina delle differenti situazioni territoriali. Solo questo percorso, scrive Iannuzzi, può scongiurare scelte e decisioni affrettate superficiali che debbono essere invece guidate da un istruttorio e da una ponderazione accurata. La riforma deve naturalmente investire, accanto agli aspetti organizzativi e di governance, l'obiettivo prioritario della semplificazione, lo snellimento e la velocizzazione delle procedure amministrative relative alla formazione ed approvazione dei piani regolatori portuali. Per queste ragioni, conclude Iannuzzi, il Ministero deve attivare da subito iniziative specifiche e concrete per garantire la partecipazione del coinvolgimento pieno delle regioni senza attendere la fase finale del piano e del decreto legislativo. L'assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano, esclude categoricamente la tesi secondo la quale Matierno sia un quartiere fuori controllo. Savastano minimizza l'episodio accaduto due sere fa e che ha visto coinvolti alcuni extracomunitari ed una minore del posto. Sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni. Quanto accaduto a Matierno spetterà alle forze dell'ordine accertare i fatti? A nostro avviso sembra un episodio abbastanza gonfiato. Noi lavoriamo fortemente nei quartieri della città come a Matierno dove abbiamo attivato diversi servizi per i giovani del quartiere. Lo ha rimarcato l'assessore comunale alle politiche sociali, Nino Savastano, dicendo che è sbagliato parlare di quartiere degradato ed abbandonato dall'amministrazione comunale. Un episodio sicuramente spiacevole, è chiaro che noi puntiamo soprattutto al rispetto delle regole civili, insomma. Quindi non sta a noi giudicare quello che sta accadendo, che se è accaduto qualcosa intanto, perché ci sono le forze dell'ordine che stanno facendo chiarezza. da quello che è emerso, insomma, in questi giorni lì a Matierno, sembra che questo caso si sia un po', come dire, gonfiato un po' e dalle dichiarazioni fatte dai familiari di questa bambina credo che non ci sia assolutamente niente di quello che è stato scritto e detto nelle prime battute ieri mattina. Lavoriamo fortemente nei quartieri della città di Salerno e non abbiamo avuto mai problemi. Noi stasera siamo col sindaco a Matierno proprio per aprire e dare ufficialmente il via a un nuovo servizio, a nuovi servizi che stiamo facendo per i giovani del quartiere. Apriremo nella vecchia scuola di Matierno che era stata distrutta dagli stessi abitanti, insomma, dai ragazzini del posto. Abbiamo recuperato questa vecchia scuola investendo fortemente. Abbiamo lì, stasera inaugureremo questa struttura dove ci sono molti laboratori che serviranno soprattutto ai ragazzi del quartiere, intanto ad avvicinarsi alla struttura ma anche ad imparare mestieri, insomma, che possono servire anche per il futuro. Sono diverse le strutture in città che ospitano profughi, immigrati, accolti dal comune di Salerno, c'è però chi sostiene che proprio a Matierno, in un quartiere difficile, non dovevano essere allocate queste persone? Ma intanto io voglio fare chiarezza rispetto a questa cosa. Questa è una struttura SPRAR, una struttura che indubbiamente è coordinata dall'ufficio, dal settore politiche e sociali, ma sono dei bandi ministeriali dove il terzo settore partecipa, insomma, mettendo a disposizione strutture o appartamenti come quello per raccogliere i ragazzi. Non c'è mai arrivata nessuna notizia o segnalazione di problemi che potevano determinare i ragazzi che sono presenti all'interno della struttura. Ieri il prefetto Malfi ha detto che gli immigrati, gli stranieri, i profughi possono stare sul nostro territorio ma devono rispettare le regole, c'è la necessità di integrarli. Ha rivolto un appello alle amministrazioni comunali affinché possano essere utilizzati per progetti socialmente e utili, non possono stare senza far nulla. Ma noi indubbiamente, io sono d'accordo col prefetto e questa è una cosa che noi chiediamo a tutti quanti. Intanto il rispetto, lo dicevo prima, il rispetto delle regole civili che noi abbiamo nel nostro Paese. Bisogna anche qui chiarire che questi ragazzi non stazionano 24 ore al giorno all'interno del centro, ma sono ragazzi che attraverso una rete di organizzazione, di sensibilizzazione che hanno fatto gli operatori, fanno tiracini di formazione lavorativa. Quindi nessuno staziona all'interno delle strutture ma sono impegnati anche a fare qualsiasi cosa, anche attraverso la disponibilità che danno commercianti o artigiani per poterli formare e insalirli nel mondo del lavoro. E veniamo alla cronaca, ci spostiamo a sud della provincia di Salerno dove è stato ritrovato sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate in zona lago il cadavere di un uomo in evidente stato di decomposizione. Indagini a tutto campo dei carabinieri per tentare di risalire all'identità dell'uomo. Ce ne parla il nostro corrispondente. Il cadavere di una persona è stato rinvenuto in mare a pochi metri dalla battigia in zona lago di Santa Maria di Castellabate. Il rinvenimento è avvenuto poco prima delle 11. Il corpo, che sembrerebbe essere quello di un uomo, era riverso a panci in giù ed era già in stato di decomposizione. È probabile che fosse in acqua da diversi giorni. Sul posto gli uomini del circolo locale marittimo di Santa Maria di Castellabate, dipendenti della Guardia Costiera di Agropoli, diretta dal tenente di Vascello Gianluca Scucci Marri, e i carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidata dal tenente Francesco Marra. Per eseguire le operazioni di recupero, i vigili del fuoco di Vallo della Lucania. Al momento risulta impossibile risalire all'identità della vittima. La motovedetta della Guardia Costiera ha effettuato diversi sopralluoghi in mare alla ricerca di dettagli, mentre un'altra pattuglia a terra ha ispezionato la costa per verificare l'eventuale presenza di imbarcazioni naufragate o di altre vittime. Inoltre, sono iniziati i riscontri sulle persone di cui è stata denunciata la scomparsa in zona. Il mare in questi giorni è molto agitato, con onde alte fino a 4 metri, per cui non è da escludere che la persona fosse rimasta vittima di un naufragio, né che possa trattarsi di uno dei tanti immigrati che nel tentativo di raggiungere le coste italiane hanno perso la vita in mare. Nel corso di uno specifico controllo antidroga eseguito ieri sera dal personale della Polizia di Stato appartenente alla squadra mobile di Salerno, è stato arrestato un pusher trovato in possesso di cocaina. I poliziotti, venuti a conoscenza di frequenti andirivieni di persone presso l'abitazione del Salernitano, un quarantenne, hanno tenuto d'occhio lo spacciatore e nella serata di ieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare trovando e sequestrando diverse dosi di cocaina per il peso complessivo di 21 grammi che sono state sequestrate. Nel corso della perquisizione, inoltre, gli agenti hanno trovato e sequestrato una cartuccia calibro 7,65 per pistola, un bilancino di precisione, due coltelli usati per il taglio e il confezionamento della droga e la somma di 420 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. Resta incerto il destino dei lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2 che questa mattina avevano programmato un presidio dinanzi al Palazzo della Prefettura. La manifestazione organizzata dai sindacati però non si è tenuta, i lavoratori e le rappresentanze sindacali sono stati convocati a Palazzo di Città dall'assessore comunale all'ambiente calabrese. Avevano annunciato un presidio dinanzi alla Prefettura di Salerno ma il passo è stato breve per i lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2 per spostarsi invece a Palazzo di Città dove sono stati convocati dall'assessore comunale all'ambiente del Comune di Salerno Gerardo Calabrese. Un tavolo in sala aggiunta allargato per discutere a lungo a porte chiuse della vicenda legata al passaggio delle maestranze dal Consorzio a Salerno Pulita. Il Comune di Salerno ha intenzione di anticipare i passaggi di 84 dipendenti su circa 400 alla società partecipata ma per le organizzazioni sindacali di categoria bisogna far chiarezza e così stamani la RSU del Consorzio di Bacino Salerno 2 insieme ai lavoratori hanno prodotto un documento inviato al neoprefetto di Salerno Salvatore Malfi per vigilare sul rispetto delle norme per far rispettare i diritti dei lavoratori in graduatoria. Nonostante l'arrivo del nuovo anno per i consorzi di Bacino ancora non è chiara la situazione dei lavoratori che si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Mentre si attende l'approvazione della nuova legge regionale sul riordino del ciclo dei rifiuti la cui discussione nella Commissione Ambiente della Regione Campania sembra essere giunta finalmente alle battute finali resta il problema della redistribuzione del personale del Consorzio di Bacino. Il presidio era stato organizzato dalla RSU perché i lavoratori erano preoccupati del loro futuro che qui stiamo vedendo sfuggirci il nostro lavoro dalle mani tant'è vero che abbiamo Eco Ambiente che ha fatto una short list mettendo all'interno personale ammesso anche se era previsto dalla norma che dovevano almeno avere dalla richiesta dell'Eco Ambiente almeno un anno di lavoro nel settore abbiamo persone ammesse dalla short list con risultato zero quindi questo significa che non hanno nemmeno lavorato un giorno nel settore dei rifiuti quindi questa cosa ci ha molto preoccupato come lavoratori come ci ha preoccupato anche questa urgenza del Comune di Salerno di anticipare i passaggi di cantiere come CGL la nostra dichiarazione è stata questa di attendere gli sviluppi della legge che pensiamo che qui a una decina di giorni debba essere licenziata in modo da poter sapere qual è il soggetto gestore del servizio in quel momento iniziale di passaggi di cantiere nell'incontro veramente si è passato anche di anticipare questo passaggio a subito per esigenze di servizio io la mia dichiarazione come CGL ho detto che saremo anche disposti volendo fare un diciamo una forzatura a passare gli 84 però se ne all'interno degli 84 saranno previste anche la quota parte che il Comune di Salerno deve prendere dalla parte del consorzio che è individuata in 20 21 persone in questo momento il consorzio conta quasi 400 dipendenti 84 verrebbero assorbiti dalla Salerno Pulita resta in bilico ovviamente la situazione degli altri lavoratori ma c'è un'altra problematica aperta quella dei lavoratori interinali che attualmente sono impiegati nella Salerno Pulita. Sì vabbè questo penso che sia un problema della società noi quello che abbiamo chiesto che abbiamo chiesto se da subito vuole passaggi di 84 deve prevedere anche la quota parte previsto come minimo nei 40 comuni del consorzio e quel momento potremo anche iniziare con i passaggi di cantiere altrimenti attendere l'evento della legge. In questo momento i lavoratori stanno operando in proroga? In questo momento tecnicamente non abbiamo nessuna proroga. So che il vicepresidente Bonavitacola ha intenzione di incontrare fine settimana i commissari perché penso che la regione Campania si debba porre questo problema che in questo momento loro non possono operare con le banche non possono operare con i servizi. Diciamo che siamo in un momento di vacanza legale insomma quindi spero che per fine settimana Bonavitacola risolva il problema dei consorsi. Diversamente c'è il rischio che si possano avere problemi nella raccolta dei rifiuti? No, sinceramente il rischio ci sono che già quando non prendiamo lo stipendio andremo avanti anche per questo, sinceramente. Ed intanto sono stati licenziati otto dei nove dipendenti infedeli dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno coinvolti nello scandalo Fannulloni. Il provvedimento è stato notificato ancora prima della conclusione del procedimento penale a carico degli indagati ai diretti interessati. Il provvedimento disciplinare, come recita la missiva notificata, è giustificato sulla base delle contestazioni mosse dalla Procura, nonostante per gli stessi non si sia ancora giunti a giudizio. L'azienda, che aveva annunciato provvedimenti rigorosi dopo aver appurato le responsabilità per ogni singolo dipendente nel corso dell'inchiesta interna portata avanti dalla commissione disciplinare, ha così deciso di far scattare i licenziamenti nei confronti dei dipendenti ritenuti assenteisti. Come si ricorda, tutto nasce da un esposto presentato dal sindacalista cicalese della CISL che aveva notato delle anomalie sull'utilizzo del beige. Nel 2014 presentò denuncia contro anonimi e la Guardia di Finanza e le stesse fiamme gialle, su input del sostituto procuratore Francesco Rotondo, avevano provveduto ad installare delle telecamere nei pressi di alcuni distributori di bevande. Fu proprio il sistema di videosorveglianza a fare emergere particolari inquietanti sui dipendenti dell'ospedale di via San Leonardo. Come dicevamo, oggi 8 dei 9 dipendenti sono stati licenziati. Il mare del Cilento è di eccelsa qualità. A confermarlo sono i nuovi dati diffusi dall'ARPAC che confermano ancora una volta la qualità eccellente delle acque cilentane. Il servizio. Nel Cilento, acque cristalline pulite anche nel 2016. Lo rivelano le ultime analisi effettuate lungo tutta la costa campana dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il litorale cilentano è quello con più punti d'eccellenza di tutta la costa campana e risulta privo di aree con classificazione insufficiente. Partendo da nord, un grosso passo avanti lo fa a Capaccio. Qui, fino a un anno fa, sventolava l'unica bandiera rossa dei circa 100 chilometri di litorale. Ora invece l'acqua ovunque qualità eccellente, in attesa dei nuovi dati di Torre di Mare. Scendendo a sud, il mare di Agropoli conferma il massimo dei voti, ad eccezione del tratto dell'area portuale che è classificato Buono. Eccellenza ovunque a Castellabate, Monte Corice, San Mauro Cilento, Pollica, Scea, Pisciotta e Camerota. Per ritrovare un tratto di costa che non raggiunge il massimo dei voti, bisogna arrivare a Palinuro. Qui è l'acqua del mare di Calafetente che, come lo scorso anno, si conferma soltanto buona, così come quella di Scario, nel comune di San Giovanni Appiro, nel tratto di bagnazione denominato Torre Oliva. Eccellente anche il mare di Santa Marina e Vibbonati. Passo indietro per Sapri. Qui risultano eccellenti le acque di Torre di Capobianco, Grotta Catalano e San Giorgio, ma fa un passo indietro il lungomare, le cui acque passano dall'eccellenza del 2014 a Buono, così come era già nel 2014. Un punto dietro il massimo dei voti anche il litorale di Cammarelle. Bene, continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale, ma ora è il momento di dare spazio alla regia per la pubblicità. A tra poco. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale, spostandoci adesso in un altro quartiere di Salerno, una zona ridosso del Parco Pinocchio, sul quale si affaccia la scuola Medaglie d'Oro, che fa parte del sesto circolo didattico. Una scuola che guarda con attenzione al suo quartiere. Una scuola che fa bene all'ambiente e al quartiere che la circonda. Si presenta così il sesto circolo didattico nel quale rientrano i plessi della Giacomo Costa e della scuola Medaglie d'Oro. Una scuola che affaccia sul quartiere dell'Irno, a fianco alla lungo Irno, quasi sul Parco Pinocchio, al ridosso del quartiere Carmine. Dopo aver iniziato l'anno scolastico, al fianco di Lega Ambiente con gli studenti impegnati a ripulire il Parco Pinocchio, l'azione a tutela del quartiere cresce negli alunni piccoli cittadini del domani, anche attraverso il progetto Compostiamo Bene, organizzato dal Rotaract, per sensibilizzare i piccoli studenti al rispetto dell'ambiente e all'educazione al compostaggio. Rispetto per l'ambiente, ma anche per gli animali, è quanto gli alunni apprendono con il progetto denominato A sei zampe per la non violenza, che vede impegnati gli studenti delle quinte classi del plesso Medaglie d'Oro e volontari delle associazioni animalisti a sei zampe animalisti italiani. Ma questa è una scuola che fa anche bene alle persone, a quelle in difficoltà in modo particolare. Lo sanno bene le associazioni alle quali la scuola ha donato i fondi raccolti attraverso lo speciale Presepe Vivente, che ha trasformato per due giorni, prima delle vacanze natalizie, le aule in botteghe e scene tratte dalla natività, con la grande partecipazione dei genitori. È una scuola questa che inoltre fa bene anche alla salute, perché è stata dotata di defibrillatori installati in entrambi i plessi. Insomma, ambiente, solidarietà, ma anche innovazione sono le materie che vengono insegnate tra i banchi di una scuola che è balzata agli onori della cronaca nazionale anche per la speciale attivazione della prima sezione Montessori per l'infanzia. Il progetto, supportato dal Comune di Salerno, è stato fortemente voluto anche da un gruppo di mamme. E sarà proprio la scuola Medaglie d'Oro ad ospitare la prima puntata del 2016 della nostra rubrica settimanale Viaggio nei quartieri, dedicata proprio a dar voce ai cittadini, agli studenti per ascoltare le loro proposte utili per migliorare la vivibilità della città. E da allora vedo Monica già pronta in postazione con alcuni ospiti proprio dalla scuola Medaglie d'Oro di Salerno. Monica, te la linea. Sì, Barbara, quale scuola meglio del plesso delle Medaglie d'Oro impersonifica quello che è lo spirito che ci ha condotto a utilizzare Viaggio nei quartieri e le scuole per raccontare i rioni della città di Salerno. Qui è una scuola che guarda con attenzione al quartiere, abbiamo provato in qualche modo a riassumerlo, ma devo dire loro sono stati più bravi di me, i docenti che hanno realizzato questo cartellone in cui punto per punto vengono ripercorsi tutti i progetti che vedono attivi i docenti, gli alunni e devo dire questa è anche una scuola, anzi lo chiedo alla dirigente scolastica Anna Maria D'Angelo, una scuola che guarda con attenzione anche alla collaborazione con i genitori. Noi ne abbiamo due qui, abbiamo fatto riferimento al presepe, loro vi hanno dato una grande mano, ci sono tantissimi progetti, mi piacerebbe sottolineare in questo primo passaggio nel nostro Tg, poi ovviamente chi ci seguirà sentirà anche le altre attività che si fanno nella scuola, quello che va a ripercorrere la storia, perché voi avete attivato un progetto anche che va a ricordare ai ragazzi il quartiere dove vivono e la storia che questo racconta, come quello della Ex Salid. Sì, allora come ha detto lei giustamente questa è una scuola che si è aperta molto al quartiere, di questi siamo felicissimi perché proprio grazie all'aiuto dei genitori, ne abbiamo qui due ma ce ne sono tanti che collaborano con noi, che ci hanno aiutato ad allestire la nostra offerta formativa mediante una rappresentazione grafica. Lei parlava del progetto Salid, sì i nostri alunni di Quinta hanno cercato di ripercorrere la storia del quartiere partendo da quando appunto è qui rappresentato in ogni caso da quando c'era appunto la fabbrica fino ad arrivare oggi al famoso teatro Ghirelli. Tra l'altro parleremo anche di un'altra importante novità che riguarda la scuola durante la nostra puntata di viaggio nei quartiere, dell'attivazione del servizio mensa, anche questo va a beneficio del quartiere e soprattutto di tutte le mamme che lavorano. Perché per la prima volta la scuola della primaria che non aveva mai avuto se non da alcuni anni, molti anni fa, un dieci anni fa mi sembra che sia detto nella storia, ha di nuovo l'utilizzo della mensa per la scuola primaria. Secondo un progetto che vediamo esposto, un progetto di potenziamento che consente ai bambini di restare a mensa e di continuare nelle prime ore del pomeriggio con delle attività laboratoriali. Naturalmente come la formula tradizionale di viaggio nei quartieri, oltre ad andare a spulciare anche negli altri rioni quelle che sono le sollecitazioni che ci arrivano, faremo con l'aiuto dei genitori, due dei quali sono già presenti, fanno parte del Consiglio d'Istituto, quelli che sono i disagi, le richieste, le sollecitazioni e le proposte che partono dalla voce dei genitori che frequentano la scuola Medaglie d'Oro per migliorare il quartiere. Proviamo Francesco giusto a dirne una. Certo, la scuola ha visto il quartiere evolversi negli anni, un'evoluzione importante, ricordiamo il Parco Pinocchio, l'ex salad che molti ignoravano, quindi un punto di trasformazione importantissimo, di questo dobbiamo dare atto alle amministrazioni comunali. La cosa importante però adesso è concentrare l'attenzione, rendere le nostre strade migliori, i marciapiedi molte volte sono pieni di detenzioni canine, quindi i bambini si trovano a dover fare lo slalom, questo è quello che chiediamo, solo maggiore attenzione, perché dobbiamo dirlo, il quartiere è cambiato, si è evoluto intorno al suo cuore che è la scuola, la scuola, ricordiamo, antica con una storia, ha festeggiato i 50 anni, quindi un punto importante del riferimento è stata Fucina delle generazioni del quartiere. Marco, che cosa possiamo aggiungere prima di dare di nuovo la linea a Barbara e poi l'appuntamento ai nostri telespettatori per la puntata di Viaggione Quartiere? Possiamo aggiungere che dobbiamo invitare tutti quanti ad iscrivere i bimbi alla nostra scuola, anche perché con il potenziamento potranno i bambini delle primarie, potranno fare mangiare qua e quindi fare il tempo pieno. Insomma, se vi abbiamo incuriosito, se volete saperne di più sul quartiere nel quale ci troviamo e la scuola che ci ospita, il plesso del sesto circolo didattico delle Medaglie d'Oro, vi aspettiamo tra poco con una nuova tappa del nostro Viaggione Quartiere, la prima del 2016, io penso che inizieremo benissimo tra poco. Bene, dunque ci collegheremo nuovamente in diretta con la scuola Medaglie d'Oro, con Monica Di Mauro per dare spazio a questa prima puntata dell'anno di Viaggione Quartiere. Noi invece intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale, diamo uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Cresce la convenienza con i saldi dal 2 gennaio al centro commerciale Le Bolle, all'uscita autostradale di Eboli, tante le iniziative per lo shopping. Mercoledì 6 gennaio in occasione della Befana, Selfie Fania scatta un selfie con la Befana e riceve in omaggio dolcetti simpatici gadget con animazioni e giochi. Centro commerciale Le Bolle, uscita autostradale Eboli. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Bene, parleremo di sport e di calcio subito dopo la pubblicità, ma intanto guardiamo insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. In collaborazione con Hey girl, I'm waiting on you I'm waiting on you Come on and let me sneak you out Yeah, we'll be doing what we do Just pretending that we're cool And we know it too Yeah, we'll keep doing what we do Just pretending that we're cool So tonight Let's go And live while we're young And live while we're young Previsioni del tempo Fornite da 3B Meteo Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale Ci occupiamo ora di sport Allenamento a porte aperte Questa mattina alla Rechi per la Salernitana di Torrente In 300 hanno assistito alla sgambatura dei Granata Presenti tutti nuovi, tra questi anche Ceccarelli appena approdato dal Bologna A Rechi a porte aperte davanti a quasi 300 spettatori per vedere all'opera la Salernitana Ma soprattutto i volti nuovi di questo mercato di gennaio a pochissimi giorni dalla ripresa del campionato Nel derbissimo del partene Lombardi contro l'Avellino Torrente ha lanciato nella mischia tutti i giocatori nuovi arrivati alla corte di Lotito e Mezzaroma Nel primo tempo quella che potrebbe essere la formazione dei probabili titolari Ha schierato, dei probabili titolari naturalmente ad Avellino Ha schierato tre dei tanti volti nuovi giunti agli ordini di Torrente Bagadour in difesa, Ronaldo e Zito a centrocampo In un 3-5-2 composto davanti a Terracciano Con Bagadour, Trevisan ed Empereur Colombo, Moro, Ronaldo, Bovo e Zito sulla mediana Gabbionetta e Coda tandem offensivo Si sono visti i cross perché si è visto Zito e tanto Soprattutto sulla corsia di sinistra Fin quando ha avuto benzita nelle gambe Sono arrivati tanti cross per le torri Granata E non è stato un caso che Coda nell'8-0 Rifilato alla primavera di Savini nel primo tempo Abbia realizzato ben 5 sigilli Altre due reti per quanto riguarda Bovo E Gabbionetta ha chiuso il conto con un emblematico 8-0 Applauditissimo Maurizio Lanzaro Sempre più con la valeggia dietro l'angolo Che è assistito all'allenamento da bordo campo Appena ha fatto capolino dal tunnel della Rechi Gli applausi sono stati tutti per lui Si è visto anche all'opera Ceccarelli L'ultimo arrivato alla corte di Torrente Che è stato schierato da tecnico originario di Cetara Esterno destro nel secondo tempo Insieme a lui anche Iconomidis L'attaccante greco con origini australiane Che pure ha dimostrato buoni colpi Ma soprattutto oltre ai cross che sono arrivati da Zito E dalla corsia di sinistra Ha destato un'ottima impressione il centrocampista Ronaldo Dotato di piedi buoni Capace di dare del tuo al pallone E di dettare le precise geometrie Per una squadra che aveva bisogno come il pane Di un ciac e di un regista E subito dopo il derby del Partenio La Salernitana proverà a chiudere anche l'ingaggio Del difensore Rea dall'Avellino Per l'attacco sono calde le piste che portano Mazzeo, Acqua Fresca e Cocco Il grosso è stato fatto Adesso serve ancora qualcosa di contorno Fabiani cerca un difensore centrale esperto Un terzino sinistro di ruolo Una mezzala e probabilmente una punta La Salernitana è sulle tracce di Angelo Rea Dell'Avellino Il possente, mastino napoletano In lista di sbarco dal club Irpino Ma l'operazione entrerà nel vivo Soltanto dopo il derby del Partenio Rea è assistito dal procuratore Mario Giuffredi Che ha portato in dote alla causa Granata Ronaldo liberando Eusepi E' andato al Pisa Il difensore centrale ha un contratto Di circa 100.000 euro all'anno con l'Avellino Fino al 2017 La Salernitana proverà a convincerlo Riconoscendogli lo stesso ingaggio di Lanzaro Sempre con le valigie dietro l'angolo Ma non ancora prodato alla Casertana Si parla di circa 140.000 euro per tre anni L'alternativa è Matteo Contini Che Camplone ha messo in naftalina a Bari In mediana invece tutto ruota Sulla posizione di Moro L'exempole è corteggiato dal Benevento Che ha messo sul piatto della bilancia Fabio Mazzeo come contropartita tecnica Ed un contratto a cifre più allettanti Per il centrocampista attualmente alla Salernitana Ieri sera il DS Sannita di Somma Fabiano e l'agente di Mazzeo Mariano Grimaldi si sono incontrate a cena Per parlare dell'operazione Le parti avrebbero raggiunto un'intesa di massima Voci di corridoio però sussurrano Che non ci sia il completo placet di torrente Probabilmente il tecnico vuole un'alternativa Al centrocampo in caso di partenza di Moro Sempre in piedi L'ipotesi bell'uomo Che era assistito fino a poco tempo fa Proprio da Giuffredi Capitolo attaccanti L'eventuale arrivo di Mazzeo Che sarebbe inserito come giocatore bandiera Chiuderebbe le porte per un altro rinforzo Nel reparto avanzato Piace Cocco del Pescara Che ha in procura Il solito Giuffredi Mentre il Bologna Continua a spingere per il prestito gratuito Di acqua fresca L'attaccante ai margini E le gerarchie di Donadoni Guadagna un botto E non segna da una vita Poco più di una suggestione Insomma Il DS Fabiani non dispera Di portare all'ombra della Rechi Qualche altro pezzo pregiato della Lazio Si sta valutando con Lotito e con Pioli L'ipotesi di trasferire in prestito L'olandese Brafied Terzino sinistro Ed anche il centrocampista inglese Ravel Morrison Sarebbero due colpi da 90 Entrambi però hanno manifestato Qualche perplessità Al salto indietro di categoria Il mercato però è ancora lungo E c'è ancora tanto Che bolle in pentola E continueremo a parlare di sport Ma è ancora il momento Di dare spazio alla regia Per la pubblicità Tra poco E parliamo ancora di calcio Occupandoci però questa volta Di Paganese Dall'inizio alla fine Dall'ottimo pareggio Contro la capolista casertana Di lunedì sera Alla difficilissima trasferta Di Foggia Di sabato prossimo Una settimana delicatissima Per la truppa di Gianluca Grassadonia Che sabato Alla prima del girone di ritorno Sarà impegnata Allo Zaccheria Contro l'undici di De Zerbi Secondo in classifica Gli azzurro stellati Sono reduce dal 2 a 2 Contro i Falchetti E proveranno a confermarsi Bestia nera per i rossoneri La Paganese infatti Nella gara d'esordio Riuscì ad imporsi 2 a 1 Sulla carazzata pugliese Partita con i favori del pronostico Per rastracciare il campionato Durante il girone d'andata I valori sono stati tenuti fuori La Paganese è ai margini Della zona che scotta Con 18 punti in classifica Il Foggia A due sole lunghezze Dalla Casertana Grassadonia sabato sera Dovrà fare i conti Con due pesanti assenze Entrambe per squalifica Appiedato per un turno Il portiere Capitano Vincenzo Marruocco E per due turni Il centrocampista Traguerri Bene ed è tutto Per questa edizione Del nostro telegiornale Io mi fermo qui Non ci sono altri aggiornamenti Vi ricordo tra poco L'appuntamento Con la nostra rubrica Settimanale Viaggiano i quartieri L'informazione invece Torna alle 19.30 Arrivederci Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it E clicca su TV Oggi On Demand Vincenzo Marruocco